La solitudine è una grazia, certamente. È una grazia quando diventa per noi occasione di dare senso alla mia vita, di dare senso alla vita degli altri e di raggiungere la felicità. Potrei citarvi tante storie di uomini che hanno saputo vivere, riscoprire la solitudine e fare l'esperienza della solitudine come grazia. Anzitutto, per scoprire e per vivere la solitudine come grazia, bisogna avere il coraggio di abitare la propria interiorità, di avere di dialogare con ciò che abbiamo dentro, i nostri desideri, i nostri sentimenti, le nostre paure, i nostri valori e il rapporto con Dio e con l'altro. Ma perché la solitudine diventi una grazia, occorre sempre passare dal dolore. È il caso della storia, per esempio, di Ignazio di Loyola, ma è anche il caso della storia di Francesco d'Assisi. Cosa induce un giovane come Francesco a ritirarsi, ad abitare la propria solitudine interiore, la propria interiorità, se non una malattia? Una malattia che in un certo senso ha cambiato tutti i suoi sogni, tutti i suoi desideri. Francesco era uno stravagante, era un ragazzo che amava la vita, ma anche dopo l'amata, che gli piaceva la compagnia, tutti lo cercavano perché organizzava sempre cene e cenette. Era uno che voleva diventare cavaliere, era uno che amava la guerra. Ma poi la prigionia a Perugia, questa esperienza della sua malattia interiore, e quindi è una malattia interiore, lo ha portato alla solitudine, alla sofferenza. Quanto tempo, quanta sofferenza! Ma poi finalmente ha trovato la libertà. E Francesco oggi è esempio di libertà e di uomo che ha saputo fare della solitudine un'esperienza di grazia. Non voglio altro che vivere come Gesù ci dice nel Vangelo, ci ricordano le fonti francescani, senza nulla di proprio, ma in giro, felice di vivere l'amore e di essere abitato dall'amore e da Madonna povertà. Francesco ha saputo abitare la sua interiorità, le sue solitudini. E la solitudine è grazia, sapete perché? Perché chi riesce ad abitare, a dare un senso alle proprie solitudini interiori, ha vinto già l'inferno. Perché se la solitudine è un inferno, la solitudine è negativa, per vincerla bisogna abitarla, darle un senso. Bisogna far sì che diventi grazia, che diventi opportunità di trasformazione interiore, per me, per te. Ecco perché gli antichi dicevano che la solitudine è beatitudine, perché solo da questo distacco che ci porta, dal distacco della vita però esteriore, dal distacco di una vita piena di solitudini negative, dal distacco di una vita in cui c'è il possesso e non c'è il dono, solo da questo è possibile trovare la felicità e quindi la solitudine diventa beatitudine. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!